Amici trader, buon pomeriggio a tutti. Apro questa pagina purtroppo con una triste notizia. Il padre dell'analisi ciclica, l'ingegnere Giuseppe Migliorino, purtroppo ci ha lasciati. È una cosa che a me rattrista molto, anche perché lui è stato sempre considerato un innovatore per quanto riguarda le tecniche di trading e soprattutto per quanto riguarda il battle plan e i cicli di borsa. Io l'ho sempre stimato, una persona di un'intelligenza penso unica e aveva anche un certo spirito nel fare le analisi, nel scrivere i libri, nell'affrontare proprio la vita. Per cui lascia tutta in eredità la figlia Paola Migliorino, la quale avrà il compito non facile di portare avanti il progetto di Migliorino del sito Borsari, dell'Ateneo e di tutto ciò che riguarda l'attività di trading. Bene, sono Stefano Vessicchio, dopo questo alto dovuto passiamo all'analisi ciclica con il software Second Navigator che il software Second Aggregator di Eugenio Sartorelli appunto non è altro che il figlio di tutti gli studi ciclici e delle battle plan appunto ideato dall'ingegnere Giuseppe Migliorino. Bene, cominciamo con l'SP500 e come avete potuto vedere in occasione della Brexit c'è stato praticamente un forte gap un forte gap il quale dovrebbe aver concluso un ciclo da 94 giorni ne ha fatto uno, vedete, uno da 66 e uno da 26 giorni attaccati. Oh, se vi ricordate io quando vi fu questa lingua di Bayer che durò 23 giorni, eccola qua, lingua di Bayer e dissi che appunto questo, sempre a scuola di Giuseppe Migliorino dissi che levando 23 giorni alla quarta avremmo avuto un ciclo di 180 giorni e così sembra che è stato. Vedete? 92 giorni e 94 giorni. Adesso bisognerà vedere una cosa bisognerà vedere una cosa io presumo anche un po' di tempo che mi balena in testa questa idea e l'ho letta poi di sera anche sulla pagina Facebook di una trader Brigitta Trader io cito sempre la fonte molto molto brava con le analisi cicliche cui ipotizzava invece che sia partito su questo minimo un altro ciclo di lungo periodo per cui, visto che tutti sembrano ribassisti presumo pure, posso anche supporre che se la SP500 romperà questi massimi 2124 vorrà dire che qua su questo minimo su questo minimo dell'11 febbraio 2016 sia partita una nuova fase ciclica di lungo periodo e che qua si è terminato il ciclo dei due anni è terminato un po' in anticipo praticamente per cui, niente, di solito l'estate l'estate è sinonimo di ribassi però potrebbe anche essere un'eccezione noi quello che possiamo fare perché diciamo che un conto è l'analisi e un conto è il trading il trading come attività speculativa l'ipotesi è questa che se verranno, ecco, io penso se verrà ritestata e verrà rotta ribasso nuovamente questa trendline tirata giù dai massimi di lungo periodo allora si andrà a una conclusione di questo ciclo a due anni ma se verranno superati questi massimi secondo me si avrà una nuova fase rialzista quello che possiamo fare è appunto è trattare sui cicli più piccoli a vedere i cicli più piccoli tipo il 3, il settimanale che a secondo di come si posizionano uno allora può trattare o a rialzo o a ribasso questa è con analisi di lungo periodo per cui qua per avere delle conferme devono passare parecchi giorni allora passiamo al ciclo a 6 mesi allora io avevo centrato il ciclo a 6 mesi su questo battle plan allora l'ipotesi sono due o torna indietro e se rompe questa origine qua è cominciato un mensile che andrà tutto a ribasso e quindi concluderà un altro intermedio o se qua è finito un ciclo a 90 giorni ecco 95 giorni se qua è finito un ciclo a 95 giorni si avrà nuovamente una rottura di questi massimi e la continuazione di una nuova fase ciclica di lungo periodo io questa ipotesi la ritengo alquanto attendibile devo essere sincero bene passiamo al DAX allora questo è il DAX questo è il ciclo a 2 anni il DAX ha una struttura diversa è messo più a ribasso come potete vedere ha rotto ha rotto il canale che teneva questo intermedio a rialzo e qua va un po' lo stesso discorso cioè se verrà violato questo minimo questo minimo questo minimo del 28 giugno allora qui si avrà una nuova fase ciclica a ribasso e se andrà a conclusione del ciclo a 2 anni invece qualora vengono rotti questi massimi cosa che io vedo possibile rotti massimi e rottura della trendline avremo secondo me una fortissima partenza di alzo perché comincerà un ciclo di lungo periodo e questo potrebbe essere anche considerata una lingua di bayern per cui niente bisogna attendere per forza i prossimi giorni per vedere l'esito per cui io da qui a a 2-3 mesi adesso non non posso dire se potrebbe essere ci sono più probabilità se sia rialzo o ribasso la prossima settimana sarà sarà cruciale se la prossima settimana vi era avviluto questo minimo allora sarà la continuazione del ribasso ecco questo è il ciclo semestrale io l'avevo centrato così stesso discorso per il DAX ecco l'avevo fatto questa centratura qua sembra si sia conclusa una fase ciclica mensile ciclo da 25-28 giorni se verrà nuovamente provato questo minimo quasi andrà giù ma io posso anche aspettarmi che qua partirà un un violento trend a rialzo è molto probabile anche questo e non lo escluderei del tutto perché qua io ho letto molti sono ribassissi c'è pure il detto americano vendi a maggio eccetera eccetera non è detto che possa succedere diversamente bene questo è tutto vi auguro buon trading per la prossima settimana prima di concludere ecco volevo ricordarvi che queste analisi sono frutto di miei studi e per cui chiunque ne farà uso in operazione in deraro reale lo farà esclusivamente a suo rischio e pericolo per per la demo di cycle navigator potrete andare al sito www.tradingnavigator.it che comunque vi lascerò il link sottostante bene di nuovo buon weekend a tutti grazie grazie Grazie.